Ciao, sono Luca Manelli e in questo video tutorial voglio spiegarti come puoi andare a gestire in modo puntuale il simbolo bidimensionale della scala quando sei in presenza di una scala condominiale, per cui una scala che ha un suo vanoscale appunto e che si ripete sui vari piani. Per questo esercizio sono andato a creare un ipotetico vanoscala e attraverso le impostazioni che vedrei all'interno del video tutorial ti spiego come puoi controllare il simbolo bidimensionale della scala sui vari piani, per cui partendo dal piano terra con la prima rampa visibile poi la proiezione della rampa al di sopra della linea di sezione, al piano primo con la seconda rampa che parte per andare a collegarsi al piano secondo e con la proiezione della rampa che arriva dal piano terra. In ultimo, all'ultimo piano appunto, nel mio caso il piano 2, la proiezione totale della rampa che porta appunto a sbarcare al piano 2. Però basta con l'introduzione, ti lascio al video tutorial. Per prima cosa parto dal tracciamento. All'interno di questo file che ho impostato con unità di misura in centimetri, sono andato a disegnare all'interno dei piani un facsimile di vanoscale. Te lo faccio vedere all'interno della finestra 3D. Puoi vedere che ho praticamente due piani sopra al piano terra e ho già inserito dei solai che vanno a simulare i solai dell'edificio e il solaio di sbarco. Logicamente nel tracciamento della scala andrò a disegnare assieme alla scala appunto il piano rotto. Come prima cosa parto dall'impostazione della scala e poi passiamo appunto al tracciamento. Vado ad aprire la finestra impostazione della scala. Per quanto riguarda le sue impostazioni iniziali vado a richiamare il preferito scala in calcio estruzzo finitura in legno. Vado ad effettuare alcune modifiche per quanto riguarda la geometria. Nel mio caso la faccio partire da 0 rispetto al piano terra e la faccio arrivare a 0 rispetto al piano primo per cui al piano superiore. Per quanto riguarda la larghezza lascio impostato 100 centimetri mentre per quanto riguarda pedata alzata e soprattutto profondità della pedata vado a impostare. Per la profondità della pedata imposto un valore fisso pari a 30 centimetri e per quanto riguarda le pedate vado a selezionare un numero pari a 18. Questo mi permette di avere in automatico in base alle regole impostate nella parte inferiore soprattutto il valore 2 alzate più una pedata il classico valore 2 a più p. Archicad va a calcolare un'altezza della pedata pari a 16,67 centimetri. Per quanto riguarda il piano di riposo non voglio avere nessun tipo di piedoca mi interessa appunto un piano di riposo classico delle case condominali e per quanto riguarda le impostazioni della struttura della finitura vado a selezionare struttura lascio monolitica sia per la rampa e sia per il piano di riposo seleziono rampa monolitica vado solamente a sovrascrivere le superfici in modo tale da avere una superficie bianca modificando la superficie della parte rampante vado a modificare automaticamente anche quella del ripiano e per quanto riguarda invece la finitura vado a selezionare la pedata imposto una pedata con il materiale da costruzione in pietra e faccio la stessa identica cosa per quanto riguarda l'alzata per cui in entrambi i box vado a selezionare pietra strutturale. Fatto questo ora vado a disegnare la scala per quanto riguarda la visualizzazione in pianta ci penso in una fase successiva adesso quello che mi interessa è andare a disegnare la scala confermo con ok vado in pianta voglio lasciare rispetto a questo muro circa 150 centimetri per cui per poterlo fare mi vado a posizionare in questo punto col cursore posiziono il cursore lungo il muro vado a digitare 150 centimetri confermo con invio e ora vado a disegnare la scala vado a disegnare la scala in modo tale da disegnare nove gradini al clic vado a cambiare la modalità di tracciamento al posto di rampa seleziono ripiano in modo tale da poter andare a disegnare appunto il ripiano ora come puoi vedere voglio avere lo sbarco della scala allo stesso livello del primo gradino di partenza per quanto riguarda appunto il tracciamento vado a inserire il valore pari a 100 centimetri che è la larghezza totale del pianerottolo e poi vado a selezionare dalla pet palette la modalità di tracciamento rampante in modo tale da poter adesso andare a disegnare la seconda rampa fatto questo puoi vedere che all'interno della finestra di pianta ho disegnato la scala passo all'interno della finestra 3d e voglio farti vedere il tracciamento della rampa puoi vedere che abbiamo il primo gradino di partenza arriviamo all'ultimo gradino al piano di riposo abbiamo l'ultimo gradino della prima rampa che si va a collegare al piano di riposo e poi dopo una volta che abbiamo definito il piano di riposo parte la seconda rampa in modo da arrivare con la stessa modalità della prima rampa allo sbarco al piano questo è il sistema che ho utilizzato per il tracciamento di questa scala ora per quanto riguarda la scala che dal piano primo passerà al piano secondo posso tranquillamente copiare questa scala e andarla incollare al piano primo proprio perché abbiamo lo stesso desilivello tra i piani che in questo caso è impostato a tre metri torno al piano terra perché adesso devo lavorare sull'aspetto grafico della rampa per quanto riguarda la rampa che dal piano terra va al piano primo come impostazione della grafica mi può andar bene perché in questo caso ho la visualizzazione della rampa di partenza e ho in proiezione dai due terzi della prima rampa per tutta la seconda rampa compresa appunto al piano di riposo ho la proiezione della scala se mi sposto al piano primo però ho una rappresentazione della scala che è totalmente proiettata ma nella realtà io qui dovrei vedere poi la seconda rampa che parte per cui di questa rampa quello che a me da dove ho la sezione della rampa al piano terra per cui spostandomi al piano primo vado a selezionare questa rampa che è la stessa che ho appunto al piano terra apro la finestra impostazioni e vado a selezionare visualizzazione in pianta per quanto riguarda queste visualizzazioni per prima cosa vado a controllare come impostata la visualizzazione infatti da questo menu posso andare a forzare la rappresentazione di questa rampa solamente visibile al piano ospite per cui al mio piano terra e uno sopra per cui avrò la proiezione al piano primo fatta questo ora mi vado a concentrare su come verrà visualizzata al piano primo perché al piano terra abbiamo visto che è corretto al piano primo non voglio l'intera rappresentazione della scala ma voglio che al di sotto della linea di sezione non ci sia nulla di visibile per cui tra le scelte che ho a disposizione vado a selezionare questa sopra segno sezione visibile significa che quello che c'è al di sotto non è visualizzato nulla per cui confermo con ok e deseleziono controllo a piano terra abbiamo detto che andava bene così al piano primo vedo la rampa che sale e nella prima parte logicamente non vado a visualizzare niente perché poi dovrò andare inserire la seconda per inserire la seconda rampa posso andare a selezionare la rampa al piano terra procedere con il comando copia mi sposto al piano primo e vado a incollare logicamente viene incollata nella stessa posizione con le stesse caratteristiche che abbiamo impostato faccio un clic all'esterno dell'area di selezione in modo tale da incollare la scala adesso devo andare a lavorare sul simbolo bidimensionale della seconda scala che va dal piano primo al piano secondo la vado a selezionare per poterla selezionare mi posso posizionare con il cursore sulla scala posso vedere che archicad mi dà la possibilità di utilizzare il tasto tab per definire quale delle due andare a selezionare quella che sto selezionando ora è la scala che arriva dal piano terra al piano primo con ancora il tab quella che adesso vado a selezionare è la scala che va dal piano primo al piano secondo per cui faccio un clic e ho selezionato devo lavorare ora sul simbolo della scala sia a questo piano e sia al piano sopra a questo piano voglio visualizzare per la prima rampa solo il pezzo di rampa che mi arriva fino alla sezione al di sopra della sezione non voglio visualizzare nulla per cui apro la finestra impostazioni al piano relativo al piano 1 vado a selezionare come tipo di simbolo sotto il segno sezione visibile e quello che c'è sopra non c'è nulla confermo con ok in questo modo abbiamo impostato la giusta rappresentazione come puoi controllarlo beh in questo caso io vedo fondamentalmente le due rampe puoi procedere in questo modo a parte che nella selezione puoi vedere che seleziono solamente quel pezzo di rampa però se vuoi controllare meglio puoi decidere di muovere questa scala al di fuori ed è selezionare puoi vedere che abbiamo appunto la visualizzazione solamente del primo pezzo di rampa ora mi sposto al piano 2 al piano 2 devo visualizzare tutta la scala proprio perché è l'ultimo piano dell'edificio per cui seleziono la scala apro la finestra impostazioni e dove ho sopra il piano relativo per cui al piano 2 seleziono dal menu senza segno sezione per cui tutto visibile e confermo con ok torniamo sotto e torniamo sotto possiamo vedere ora che abbiamo controllato in maniera precisa la rappresentazione in pianta della scala sui vari piani grazie a tutti Grazie a tutti